Mercedes Ron, è colpa mia? Capitolo 32, Nick. La sorresti prima che il suo corpo potesse raggiungere terra. Imprecando a denti stretti, la presi in braccio e la sistemai sul sedile del passeggero. Cazzo, era svenuta! Urlai a Buttafuori di portarmi una bottiglia d'acqua, e quando questa arrivò, vidi che piano piano Noah stava riprendendo conoscenza. «Noah, ehi!» la chiamai, accarezzandole la guancia e avvicinandole l'acqua alle labbra. «Bevi, Noah, dai!» Lei aprì gli occhi e prese la bottiglia che tenevo davanti alla sua bocca. «Che è successo?» chiese, guardandosi attorno. «Ronnie!» Sospirai sollevato nel vedere che stava tornando in sé. «E' andato via», risposi, appoggiandomi al sedile. «Dannazione, Noah! Mi è spaventato a morte!» Si voltò verso di me. Era bianca come un cencio. «Sto bene», affermò, bevendo un po' d'acqua e guardando in avanti. «Cazzo no che non stai bene», dissi, alzando il tono della voce. «Lion mi ha detto che sei caduta mentre giocavi a bowling, che hai sbattuto la testa e non so voluta andare in ospedale». «Non sono voluta andare in ospedale?» «Perché so esattamente cosa mi direbbero. Devo solo riposare». La guardai esasperato. «Potresti avere un ematoma interno?» «No, figurati!» «Non intendevo dall'eretta. Misi in moto e andai verso l'autostrada. Che diavolo stai facendo?» «Ti porto al pronto soccorso. Hai sbattuto la testa e hai perso conoscenza. Se vuoi giocare con la tua vita, sei libera di farlo. Ma io non intendo permetterlo». Noah non disse una parola. Quando arrivamo in ospedale, scese di fretta ed entro da sola al pronto soccorso. Rimase stranamente silenziosa mentre compilava i documenti e attendevamo che ci chiamassero. «Non voglio che entri con me. Aspettami qui». «Non dire cazzate, Noah. Parlo sul serio». Mi scocciò dove restare fuori. Sapevo di aver rovinato tutto con Noah, ma mi uccideva sapere che era ferita e che io non le potevo stare accanto per farla sentire meglio. Ronnie non si sarebbe fermato finché non avesse raggiunto il suo obiettivo e avevo paura che le cose potessero andare a finire ancora peggio. Pensai di chiamare estivo il capo della sicurezza di mio padre e spiegargli la situazione, ma avrebbe significato dovergli svelare troppe cose. Mio padre avrebbe scoperto cos'era successo e temevo che in quel caso avrebbero deciso di andare alla polizia. Se Ronnie fosse venuto a sapere che intendevo muovermi legalmente contro di lui, sarebbe diventato tre volte più pericoloso di adesso. Le faccende trabande andavano risolte in altro modo, ma non avevo idea di come fare per non perdere Noah per strada. Avevo dovuto fare appello a tutte le mie forze per non spaccare la faccia Ronnie lì su due piedi, perché sapevo che se l'avessi fatto Noah non mi avrebbe mai perdonato. Se volevo riconquistarla dovevo risolvere definitivamente il problema della violenza. Noah si era finalmente aperta con me. Eravamo riuscite ad avvicinarci. Avevo parlato di mia sorella. Mi ero confidato con lei. Avevo capito cosa significasse amare qualcuno. Lo sapevo. Sapevo di amarla. Ne avevo bisogno come l'aria. Come avevo potuto essere così stupido? Noah era l'ultima persona al mondo. Che volevo veder piangere è l'ultima che volevo far soffrire. Non sapevo quanto tutto fosse cambiato così tanto. Come ero passato dall'odiarla a provare ciò che ora provavo per lei. Ma ero certo che non volevo perderla. Finalmente uscì dall'ambulatorio e mi raggiunse. Mi alzai nervoso. Ho una piccola contusione disse senza guardarmi. Cazzo lo sapevo. Ma non è grave. Il dottore mi ha detto di tornare se dovesse di nuovo girarmi la testa o se dovessi svenire. Ma di sicuro sarà sufficiente un po' di riposo. Mi ha fatto il certificato medico per non andare a lavorare domani e mi ha prescritto degli analgesici per il mal di testa. Stavo per accarezzare la guancia sollevato all'idea che stesse bene ma lei si scostò prima che le mie dita la potessero sfiorare. Puoi portarmi al lavoro? Voglio passare a prendere la mia macchina. Mi chiese senza sempre senza guardarmi. Strinsi i denti con forza ma decisi che era meglio tenere la bocca chiusa. La portai fino al locale e la segui per assicurarmi che arrivasse a casa sana e salva. Sapevo che non mi avrebbe permesso di avvicinarmi a lei e meno che mai dopo l'accaduto. Così decisi di andare a trovare Anna. Da quando eravamo andati via mi aveva scritto diverse volte. Avevo capito che dovevo essere sincero con lei. Mi ero lasciato trasportare dall'odio verso mia madre facendo di tutta l'erba un fascio quando in realtà esistevano donne incredibili. Nel mio caso una donna incredibile che dovevo ad ogni costo riconquistare. Quando fermai l'auto davanti a casa sua la vidi avvicinarsi con cautela e guardami preoccupata. Si chinò per darmi un bacio sulla bocca ma scostai la faccia automaticamente. Le mie labbra avrebbero baciato una sola persona e quella persona non era Anna. Che ti prende Nick? Mi chiese ferita. Non volevo far del male ad Anna. Ci conoscevamo da troppo tempo. Non ero così stronzo come volevo far credere. Anna non possiamo continuare a vederci. Affermai guardandola negli occhi. La sua espressione cambiò e la vi sbiancare. Rimase in silenzio poi parlò. È per lei vero? Mi chiese mentre gli occhi le si inumidivano. Merda ma che mi prendeva? Avevo forse deciso di far soffrire tutte le donne che conoscevo. Sono innamorato di lei. Confessarla ad alta voce non fu così terribile come avevo immaginato. Era liberatorio, gratificante, la pura verità. Anna si accigliò e si asciugò energicamente una lacrima. Tu non sei capace di amare nessuno, Nicholas. Dichiarò passando dalla tristezza alla rabbia. Sono anni che aspetto che ti inamori di me, che faccio tutto il possibile per crearmi un piccolo spazio nella tua vita. Ma te ne sei sempre fregato ampiamente. Mi hai usata e ora mi viene a dire che ti sei innamorato di quella ragazzina? Sapevo che non sarebbe stato facile. Non era mia intenzione ferirti, Anna, affermai, ma le scosse la testa. Le lacrime le scendevano lungo le guance. Sai una cosa? Disse guardandomi furibonda. Mi auguro che tu non abbia mai quello che desideri. Non meriti di essere amato da nessuno, Nicholas. Se noa è furba, si terrà alla larga da te. Pensi di poter condurre una vita come la tua? Avere un passato come il tuo e far innamorare di te una ragazza come lei? Strensi pugni con forza. Quelle parole proprio non mi andavano giù, anche se una parte di me sapeva che Anna aveva assolutamente ragione. Mi allontanai da lei cercando di controllarmi. Ciao, Anna. La salutai e risalii in macchina. Rimasi a fissarmi arrabbiata mentre mettevo in moto e me ne andavo. Sapevo di dove mi guadagnare il perdono di Noa, ma non avevo idea di come farlo. Quando arrivai a casa quella sera volevo solo vederla, ma non era in camera sua. Mi nervosi e andai in sala, dove la trovai addormentata con la testa appoggiata sul grembo di sua madre. Lei era sveglia che guardava un film e accarezzava delicatamente i lunghi capelli della figlia. Avevo un'aria rilassata e quando la vidi percepì un'affitta al petto che non provavo da dieci anni. Mi sentivo terribilmente in colpa per aver picchiato quel tizio, per aver baciato quella ragazza davanti a lei, per averla ferita, ma avvertì anche una profonda tristezza nel vedere sua madre coccolarla in quel modo. La scena risvegliò in me vecchi ricordi che tenevo ben nascosti in fondo la mente. Anche mia madre un tempo aveva fatto così con me. Quando avevo otto anni, se facevo un incubo, era proprio in quel modo che mi calmava. La sua mano che mi accarezzava i capelli era il rimedio perfetto per farmi sentire al sicuro e ritrovare la calma. Ricordavo ancora tutte le notti in cui mi era addormentato in lacrime, spaventato, sperando che mia madre tornasse, che entrasse in camera mia e mi tranquillizzasse come aveva sempre fatto. Un dolore intenso mi squarciò il petto. Un dolore che scompariva del tutto quando stavo accanto a Noah. L'amavo. Avevo bisogno di averla vicino. Ne avevo bisogno per sentirmi amato. Raffaella allontanò gli occhi dal televisore e mi guardò sorridendomi con tenerezza. Proprio come quando era bambina, mi disse in un sussurro riferendosi a Noah. Anui osservandola e desiderando di essere io ad accarezzarla fino a farla addormentare. Non te l'ho mai detto, Ella, ma sono contento che tu sia qui, che entrambe siate qui. Le confessai senza sapere da dove venivano quelle parole. Mi uscirono semplicemente di bocca, ma erano sincere. Noah mi aveva cambiato la vita, l'aveva resa più interessante, mi aveva spinto a desiderare di lottare per qualcosa, qualcosa che volevo davvero avere. Lei, io volevo lei. Da quel momento in poi sarei cambiato, sarei diventata una persona migliore, l'avrei trattata come meritava e non mi importava quanto ci sarebbe voluto. Non intendevo arrendermi finché non avessi ottenuto il suo perdono. La mattina dopo scesi a fare colazione e la vidi seduta, come sempre, davanti ad una ciotola di cereali e a un libro, anche se in realtà non stava leggendo e nemmeno mangiando. Rimestava distrettamente i cereali, con la testa chissà dove. Non appena mi sentì entrare mi guardò un attimo e poi si concentrò subito sulle pagine del libro. Raffaella era seduta accanto a lei, con indosso gli occhiali e un giornale aperto sul tavolo. «Buongiorno», salutai, mi versai una tazza di caffè e mi sedette davanti a Noah. Volevo che mi guardasse, speravo in una qualsiasi reazione, anche in una arrabbiatura, ma non volevo che mi ignorasse. Quello era peggio, che mi insultasse o che mi urlasse contro. «Noah, per favore, vuoi mangiare?» le disse sua madre, con un tono di voce un po' più alto del normale. Lei alzò di colpo la testa, ma allontanò i cereali e si alzò. «Non ho fame!» «Non se ne parla, vedi di mangiare, già ieri sera hai saltato la cena», le ordinò Ella, guardandola arrabbiata. «Merda, adesso Noah non mangiava tutto per colpa mia, cazzo! Lasciami in pace, mamma!» le intimò, uscendo dalla cucina senza degnarmi di uno sguardo. Raffaella mi divolse un'occhiataccia. «Cos'è successo, Nicolas?» domandò, scrutandomi e togliendosi gli occhiali. La ignorai e mi affrettai ad alzarmi. «Niente, non ti preoccupare», risposi prima di uscire. Raggiunsi Noah a metà scala. «Ehi!» la chiamai, bloccandola e piazzandomi davanti a lei. «Togliti di mezzo, mi ordinò fredda. Adesso non mangi neanche», gli disse, e guardandola bene notai che non aveva un bel aspetto. Sembrava stanca ed emaciata. «Come ti senti, Noah? E non dimmi bugie che non stai bene. Se non stai bene devi tornare in ospedale». «Sono solo stanca, non ho dormito molto», rispose, cercando di allontanarmi. La seguì fino alla sua stanza. «Non intendi più rivolgermi la parola», le chiesi. I suoi occhi mi fissarono. «Adesso ti sto parlando, no?» replicò, aspettando che mi togliessi da davanti la porta. «Mi riferisco a parlare davvero, senza sbretare. E che è quello che stai facendo da quando siamo tornati dal viaggio», risposi cercando in tutti i modi di far breccia in lei come una volta. «Ti ho detto che è finita, Nicholas. Ora spostati, voglio entrare. Cazzo!»